Bello a tutti i burrulli, sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video del sabato Siamo di nuovo ragazzi nella sfida dei LuckBlock insieme a Tina e a Marco Ciao, ciao Ciao Ma scusa Non l'ho fatto apposta No, non l'hai fatto apposta, giuramelo Ti giuro Mi giuro Ed è pure in creativa, perché non posso picchiarla Aspetta che devo tornare piano piano in FC Oggi facciamo una sfida dei LuckBlock come quella di due settimane fa Quella scorsa non vi è piaciuta tanto, quella vecchia 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 Se raggiungiamo tanti tanti like settimana prossima Farò la nuova idea che mi era venuta in mente per questa settimana Ma non avevo voglia di farla e quindi balsa Però Hai finito? Però questa settimana ci sarà un però Allora, a parte che la mappa è tutta rotta perché Marco è un coglione in creativa Si è... Sei proprio scemo Io non ho fatto niente Ok, però fatemi spiegare cosa dobbiamo fare oggi Allora Se notate qua ci sono tre chest In questa chest ci sono questi Lucky Block In quest'altra chest ci sono questi Lucky Block E in quest'altra chest ci sono questi Lucky Block A turno loro due sceglieranno una chest che li rappresenterà E quindi avranno questi Lucky Block in più rispetto ai Lucky Block rosa Che sono essenzialmente quasi uguali a quelli normali Ce ne sarà uno che però riceverà 64 Lucky Block Quelli di merda, quelli normali, quelli che non valgono niente Quelli che non ti permettono secondo me di vincere Quindi siete pronti Chi sceglie di voi due? Io! Io scelgo questo Allora, fermo, fermo, fermo Io farei scegliere prima Martina perché tu ti sei presentato 4 ore in ritardo Che palle Hai distrutto la mappa Io... Qua non ci sono testimoni Allora io scelgo quelli del centro Va bene, io scelgo questi allora Ok, e io scelgo questi qua Marco, se hai un pirla dovevi tenerti questi qua Perché qui li sono quelli normali Perché io vinco sempre Allora vi faccio Sì, sì Ma cosa vincisci perché vincisci sempre Martina? Eh, ci credo Io vinco sempre e poi la lascio vincere Perché io proprio faccio Io faccio i ponti TNT Ma sì, sì Mettetevi lo spawn point Che qua iniziamo subito con i 7 minuti Già ho dovuto fare un intro che era più lungo di tutto il video stesso Allora Sì, signor Se tossisco durante tutto il video è un problema? Sì, è un problema Marco, cosa stai No, fermo, 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 fermo Fermo, fermo, fermo Posso sapere cosa stai facendo, Marco? Cosa? Allora, ban di Mark No, 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 no Lui starterà due minuti dopo, ragazzi Perché si era già Sono un dittatore Sì, partenza, via Viva per Mario Monti Partenza, via Io apro quelli di Galaxy intanto Ma sono bellissimi questi comunque, lo sai Dai, Mark Sì, sì, tuoi sono bomba Bomba Ma che cosa è? Mi sono appena messa 8000 cuori Ma che dacchio Veramente? Dai, raga Facciamo così Marco lo facciamo intere a 30 secondi, dai Perché mi fa Mi fa troppa pena A te non fa pena A me fa pena Potete pardonare, please Dai, lo pardono a Martina Quando vuole Martina Verrà pardonato Quindi mi sa che rimarranno fuori Per tutto il tempo Può veramente stare poi Tutta la partita Dai, pardonalo Ninja style, ragazzi Incredibile Ninja a titolo con ninja No No, purtroppo non fa Il lucky block di ninja love No, quelli bisognerà crearli Allora, io qua c'ho delle cose interessanti Però, pardoniamo Pardon Pardon De Mara No, ti giuro Ma ci posso farti una foto Di quello che sto vedendo? Sì, sì, falla La metterò poi in video Però Il tempo scorre Quindi è tutto il scapito Io ti devo fare questa foto Perché è il mio cuore Cioè, cosa succede? Non so Cosa devo dire Ma ci abbiamo dato la foto Di me i cuori Cosa? Marci Cosa ti avviene fatto? Ti giuro non lo so No, 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 no Ma cos'è sta cosa, raga? Perché entra e muoio? Ma cos'è sta co... Ehm... Oh Meno male che sono ragazzi in... Sì, ma capisci che io c'ho Tammi di tanti quali Che mi copre lo schermo Non vedo Sì, sì, ma adesso Guardiamo la foto di Martino ragazzi Per capire Ma che cazzo Anche a me l'ha successo L'altro Hai... Ah, tu c'hai quelli mix No, c'hai quelli infernali C'hai No, ragazzi Parco due Qua situazione sta sgravando Perché? Cosa è successo? FRAA Che cos'è successo? FRAA Guardami FRAA 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 Mi sono esplosi I... IK Verde IK FINDEN No, ragazzi No, ragazzi Secondo me Marco vince Quando gli H block Normale Vuoi vedere? No, ragazzi Guardate la mia fase Mi sono buttato Mi sono buttato Marciani è un piccone Da prestarmi Guarda È proprio come Un piccone Anche lo vorrei Mica come le... Ah, guarda che ho trovato Quella della miniatura Oh, che figo Ma è il tuo? Ma è proprio il tuo? Datemi un bazooka Minchia Poi neanche senza voler Cos'è questo? FRAA Galaxy Bomb Proviamola su Martina Scusate se tossisco No, non ti scuso Martina, ma tutto bene? Dai, infatti Sono immortale Marci, che palle Come se... Ah, che c'è Sono buttati in palle Ma vai giù Non... Ma sei creativa Ma non mi è scato Martina Sta citando Tipati da Marco Ma ti impati da Marco Ma scusa Ragazzi, ma perché Mi sponono solo dei pozzi? Cioè Dei pozzi? Guardate la mia fase Quello che giocava alla Samp L'eterno fenomeno Era lui Che Ronaldo Pozzi Bello ragazzi Bello ragazzi Qui è pozzi No, qui è pozzi Sono da... Allora, Galaxy Bomb Allora No ragazzi La situazione sta sgravando Aspetta Siccome vedo che Marco Mi sembra un attimino in difficoltà No, ragazzi Ma dai Ma dove sono finito? Ma... Scusate Ma... Una madonna Cos'è che c'ho? Frrrrrr No ragazzi No ragazzi Ma guarda Mi sponono solo dei pozzi Pozzi? Sempre il giocatore... La mia fase è una merda Fjord & Wishka Ma basta che non ci muoio Ti ho detto È proprio come un piccione No, un piccone Ragazzi è un piccone Ma guarda Noia della morte Noia della morte Se l'avessi te lo giuro che te lo darei Ma te lo giuro... Oh ce l'ho trovato il piccone Però in piena... Ah, allora dai Ma il legno È per me Siete proprio dei gendarmi Siete proprio dei piccoli Ma cosa ho trovato Ma fa? Ma sono veramente... Andato da che noia? Ma questo... Ma perché sono... Perché mi è uccisa? No Non ho più i miei mille mila cuori No Marti ma ti sei tippata Ma non vale Ma scusi No gno 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 Ma questo è i miei mille mila cuori? Non lo so però So solo che... Marti non è uno nella vita reale Ne vuoi mille mila... In un gioco Questo è la cattiva Ma questo è veramente cattivo Marco Non me l'aspettavo Da parte tua Sinceramente sai È stato veramente È stato veramente... T'è proprio... No questa... Ragazzi hashtag Hashtag cattivo nei commenti T'è proprio un bulldog Ma cos'è? Ma perché? Ecco ragazzi Mi sono tornati i cuori Ieri Ok Ma quindi tu sei mortale Cioè tu non puoi morire Essenzialmente No E quindi come facciamo? Hai vinto? Sono morta Ma perché? Ah sei morta? Ah va bene Guarda quanto è morto No sono morta di nuovo Ragazzi si sta buggando Mi sa tanto che l'ho buggato di nuovo Sì che bello Sono veramente Ma guarda qua Ma stai bene Ragazzi Ascoltate un attimo Devo vedere i minuti Siamo a 5 e 13 Siamo a 5 e 13 ragazzi Mamma mia Ragazzi è di strano nell'ore Martina ha scritto sul gruppo America E infatti Andiamo in America Andiamo in America Quando? Andiamo in America Ragazzi se ci pagate il biglietto Noi andiamo anche domani Ragazzi ho di nuovo i cuori Ma smette Anche non un sacco Però non tanti Allora facciamo così Marci Se questo video arriva a 5000 like Domani Domani prenotiamo Il volo per l'America Scusa Marci Ma non sono finiti i tempi Sai? Sono finiti? È finito il tempo No non cadere spada E cioè è vero che non è finito il tempo Ops Per rompere le balle Per rompere le balle Ragazzi guardate cosa devo fare per andare su Ma guardate un piccone Ancora questo piccone Dai un piccone Eh cosa mi è uscito? Mi è uscito qualcosa di Arkano Comunque qua Un piccone Un piccone Ho trovato un piccone Non è un piccone No 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 Dai spacca questo Spacca questo Dove sei? Questo Questo E cosa ci dà? Eh non lo so Mi dici che posso spaccarlo solo col piccone Io non ho parole per la mia base Dai spaccalo Dai Dai Marci Prima vai giù E poi lo apro Perché magari è qualcosa di bello Ma perché tutto sta esplodendo? Grazie mille Marci Grazie mille prego Arrivederci Addio Cos'è che c'è qua? Ok Ragazzi Mancano 20 secondi Io mi accampo sopra Potresti farle tele 20 Marci È vero Mamma mia Incredibile Attenzione Ultima offerta 20 secondi La morte Ma Marci ti vedo Anche io ti vedo Però sono morto Peccheroni Io mi sono tippato Da che annoia Ragazzi io non muoio Ibraimovic Allora I cuori Ragazzi 7 minuti passati Marti non venire Dai ma andiamo tutti da Marco No raga avete rotto il Kaiser Senti Marco Allora hai fatto 11 ore di ritardo Hai distrutto la mappa Sono Ryanair Marti ha tolto il bottone Non l'ho tolto un cazzo E non è neanche la c'è Non c'è una base Non c'è nulla Devo andare Della base di Martina A prendere il bottone Per poi tornare da Marco No raga Io non gioco più Dai io mi banno da solo Bande Marco Mi banno Perché c'è della Perché è tutto più di Pedro Io non gioco più Cioè Ma come si entra da qui scusate Allora Calma tutti Dove ho messo i bottoni Eccoli qua Ok aspetta un attimo Facciamo insieme Si guarda Si fa così Tac e tac Vai bravo Marco Ti puoi pardonare Ah no Puoi Ops Si è proprio bannato lui E ma lui non ancora ha perso Mi pardonate Ma perché mi non pardonate Oh che palle Pardon Pardon Ragazzi nessuno mi pardona Ragazzi che noi è morta Che noi è morta Pardonate Allora aspetta un attimo Che devo eliminare Marci Quando fumavo un BMW Ho capisci che ho 8000 cuori Però ti posso spaccare l'armatura Potrei avere 8000 cuori in game Martina è morta Marti sei morto Io ti ho ucciso Che palle che sei Pardon the mark Marco sei stato ambannato Io sono vivo del tutto Tu appena muori sei morto Sappilo Marco Ma dove sei? Sono morto Non lo so Nessuno mi pardona Ma io Ma sai che sei pardonato Scemo di cactus Non è vero Non mi fa entrare Ma quanto è bannata sta cosa Che io avevo 8000 cuori In un colpo Me li hai tolto tutti Dai Perché c'è una cosa Che toglie un sacco Ma no E continuavi a colpire Marti questa qui mi toglie Sì ma mi colpivi più volte Marco Cosa che stai facendo No Più che altro è per capire No Ma che cosa ho appena visto Con quanta non ce l'assero fa Sono pregaduto giù Così l'ho fatto Anche tu mori sul corpo Ma mi hai tolto 8000 cuori in uomo Ma che cazzo Ma questi uomini sono fake però Ragazzi Ragazzi però non vale giocare così eh Perché scusa Cioè guardate la mia base C'è anche una fireball bloccata Allora aspetta un attimo Prima di chiudere il video Aspetta un attimo Ma io posso Voglio fare una cosa Marci Ma io posso volare Non lo sapevo raga Aspetta Allora Cosa devi fare Allora raga Prima Di chiudere il video Ci salutiamo in questo modo No Sai che raga sono te Ma non lag Ciao a tutti Bella Ciao Ciao